Buongiorno e buona domenica a tutti, pronta per fare colazione e incominciare questa giornata. Pronta a rimettermi sui libri. Questa mattina ero molto indecisa se iniziare a ripetere o andare avanti un po' a schematizzare e mi sa che ho fatto la scelta sbagliata perché forse era meglio iniziare a ripetere. Ma vabbè, ormai è andata la mattinata, ho un mal di test che non riesco neanche più a capire da che parte sono girata, quindi basta, pausa, ora vado a mangiare e poi cercherò di fare il possibile. Eccomi qui, pranzetto fatto e il mio ginsenghino l'ho bevuto, nel mentre ho anche controllato e per fortuna l'ho fatto, di aver inserito correttamente tutti i dati per la collaborazione studentesca di cui vi ho parlato, per lavorare, insomma, per l'università, perché oggi andava fatta entro oggi e avevo sbagliato a mettere delle disponibilità orarie. Quindi niente, ho completato tutto, adesso devo solo vedere se poi mi chiameranno. Quindi, boh, incrociamo le dita e vediamo un po'. Nel mentre pensavo di riposarmi un pochettino, più che altro perché sto mal di testa non mi sta passando, infatti nel caso prenderò una pastiglia, mi rilasso un attimo e poi ci si rimette dietro con lo studio. Io comunque stavo riflettendo un pochettino con Dani e mi sa che ho fatto una cavolata perché avevo comprato il biglietto del treno perché l'avevo trovato tipo a 7 euro e qualcosa. Il problema è che, cioè problema, poi Dani mi ha detto che sarebbe comunque potuto venire il giovedì, cioè il giorno in cui io parto, perché l'esame ce l'aveva al mattino, cioè giovedì lui al mattino avrà l'esame, quindi ipoteticamente nel primo pomeriggio possiamo partire per andare a Padova. E lui sarebbe venuto in macchina, quindi a questo punto mi sa che ci sarà un cambio di programma perché, cioè per farlo venire il non venerdì mattina in macchina, tanto vale che partiamo insieme il giovedì pomeriggio, andiamo insieme a Padova, almeno io ho la compagnia, sono con lui, siamo entrambi in macchina, quindi anche meno sbattimento perché sennò dovrei prendere il treno, andare a Milano, aspetta la coincidenza, insomma, sapete no? Tutto il tram tram che devo farmi e quindi sarebbe tutto molto più facile partire con lui direttamente, per cui... E poi magari alla sera mi tiene un po' più tranquilla per l'esame. Per cui ecco, insomma, penso che farò, faremo così, per cui vabbè, niente, metterò magari in vendita il biglietto del treno se trovo qualcuno che me lo prende, se no pace. Quindi vabbè, stavo riflettendo e mi è venuta in mente questa cosa. Quindi penso proprio che partirò con lui, però adesso ci penso ancora qualche giorno, tanto possiamo decidere anche all'ultimo. Niente, dai, detto questo, mi riposo un attimino e da oggi penso che inizierò a ripetere perché ci ho messo troppo stamattina a schematizzare e vedo che sto perdendo un po' tempo, quindi meglio che inizio a focalizzarmi su almeno alcuni argomenti, almeno per non arrivare a sapere male tutti, ma almeno qualcosa che riesco a sapere bene e via. Poi, vabbè, è un esame che va a fortuna, poi gli esami di crocette che vabbè, io odio, però diciamo che mettono in nuanza sicuramente degli esami orali o degli esami scritti con domanda aperte, per cui vediamo. Però non ho voglia di rifarlo, quindi devo passarlo. E niente, stiamo comunque ancora in attesa dei risultati di psicometria, quindi vabbè, stiamo qua. Vi aggiorno più tardi. Qualcosa mi dice che abbiamo iniziato a ripetere. Questa è, diciamo, la mia postazione, il mio mood quando inizio a ripetere. Bella, bella, cotta. Sono distrutta, ripetuta un po'. Ovviamente sono al primo giro di ripetizione, quindi non mi ricordo praticamente nulla, però mentre leggevo le cose, dicevo, ah sì, questo è vero, ah sì, questo è vero, quindi dai, speriamo. Questo è il mio modo per verificare se ho assimilato qualcosa. Quindi sono arrivata a circa metà. Adesso pausa perché sto morendo, vado un salto da Dani, un paio d'ori, che stacco un po' e poi cerco di ritornare un po' sui libri. Allora, che non mi si dica che poi non faccio mai niente, eh, che fa sempre tutto Dani, guarda qua come ho in fatto. Guarda chi ha le mani infarinate, chi ha le mani pulite. Guarda chi ha le mani infarinate e chi ha le mani pulite, eh? Eh? Bene, bene, se non si era capito io che volevo un po' riposarmi, devo mettermi a cucinare, perché qualcuno voleva le meatball. Io. E, eh, e niente, abbiamo guardato una puntatina di MasterChef, adesso cuciniamo e poi, non so, se riusciamo, vediamo anche la seconda, però... Mmm, dubito, ce la fai in venti minuti a cuocerla il meatball? Sì, ma prima non ci vediamo. Sì che mangiamo. Sì, e poi il... Mmm. Comunque vorrei farvi notare che queste sono praticamente metà mia mano, si può dire. Allora, come sempre Dani mi ha preparato una cenetta buonissima, strapiena, cioè quelle veramente meatball erano più grosse di me. Infatti ne abbiamo avanzate un po' da portarci domani per pranzo, perché domani mattina andiamo in università. Siamo entrambi più produttivi là, quindi vediamo, speriamo. Eh, domani mattina devo solo passare un attimo in banca per una commissione, poi andiamo diretti comunque otto e mezza. Siamo già in viaggio. E, mmm, io ho sto mal di testa che non mi sta abbandonando, quindi vabbè, ho acceso un attimo il computer e vedo se riesco a fare almeno qualche flashcard, impostarla, perché ho tipo 150 esperimenti da... una serie tipo 150 esperimenti da ricordare e quindi voglio buttare un po' in flashcard per cercare di memorizzarli. E vediamo se riesco a resistere un pochettino, se no basta, mi riposo e domani faremo di più, come sempre. Cioè, si vive sempre con questa speranza. E niente, domani dovrebbero anche uscire i voti di statistica a questo punto, e quindi vi farò sapere. Incrociate le dita per me. Come sempre, quindi, io vi ringrazio per essere stati con me anche quest'oggi, questa settimana. Non vedo l'ora veramente di iniziare questa nuova settimana domani, perché poi vorrà dire che ho finito, comunque vada. Per cui, niente, supportatemi finché ne ho bisogno, per favore. Ho tanto bisogno di supporto in questo momento, quindi lasciatemi un like, condividete questo video se vi va, e come sempre vi lascio anche i miei social. Se non vi siete iscritti ancora al mio canale, mi raccomando, non perdetevi i prossimi video, anche perché tra poco torneremo a Padova, con anche Dani, faremo un po' di giretti, quindi, insomma, vi porterò finalmente un po' di contenuti, anche perché non mi supporterete più in una Grace in sessione super stressata, quindi c'è bisogno un po' di girare e fare qualcosina di interessante. Per cui, come sempre, io vi saluto e vi do appuntamento. A domani, ciao!